Arrivano le ultime notizie di calcio mercato sul futuro di Mbappé, che può lasciare il PSG e firmare con il Real Madrid già questa sessione estiva. Secondo El Chiriguito, il giovane campione francese verrà presentato allo Stadio Bernabeu il 23 luglio. A questo punto ci sarà una grossa cifra di mercato che il PSG potrà investire e occhio al futuro di Ossiman, che potrebbe cambiare. Il nigeriano è uno dei calciatori che piace al club francese. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!